Il tuo capo dov'è? Io non parlo. Mi ucciderà! Se non lo fai, ti uccide lui. È nella casa grande. Quella col giardino. Andiamo? Non sapevo che aveste una lama celata. Credevi di essere l'unico? Beh, in realtà credevo di sì. Dove l'avete preso? È un dono della confraternita. Capisco. La missione è stata un successo. L'esercito farà la sua mossa a breve. Bene. Non abbiamo abbastanza risorse a New York per combattere questi criminali. Per un po' di fortuna ce ne sparazzeremo una volta per tutte. Io me la creo la fortuna. Ora andiamo a dare il colpo di grazie. Signore, fermiamo. La donna è all'interno. Perfetto. È il momento di stanarli. Io vado dentro da solo a prendere fuori. Molto bene. Devono morire! Perfetto. Sì, 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 sì. Abbiamo quello che ci serve. Ora, Shevalier mi sta aspettando. Hop. Buon viaggio. È ora che arrivassi. Mi spiace che sia andata così scena. Eri un tipo affascinante? Sì. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Stop right there! No, no, no. No, no. No, 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 no, no.